Sei stanchissimo immagino, però ti chiedo anche oggi un altro allenamento con i tifosi che vi hanno dato la carica. Com'è? È un po' diverso allenarsi con i tifosi, è più bello? Certo, è bellissimo vedere così tanti tifosi anche se diciamo non è molto caldo, un po' freddo, però siamo molto grati e molto contenti che sono tanti qua oggi. Certo, è sempre diverso quando i tifosi ci sono, hai ancora un po' di più voglia, o diciamo è un'altra energia ancora, sai, meglio. Entusiasmo alle stelle per i tifosi arrivati al Bruseschi che hanno chiesto foto e autografia ai loro beniamini, stanchi ma felici, come racconta il centrocampista sloveno Sandi Lovric. Bene, bene, tutto bene, è sempre bello quando vai a giocare per la tua nazionale, poi anche è un po' diverso, sai, del club, è bene, però penso che siamo tutti e due contenti che siamo tornati sani, questa è la cosa più importante, adesso è un po' più lungo che non c'è nazionale e siamo contenti che siamo qua.